è arrivato il sole ma che devo? fai proprio la direttissima oggi? sei in forma tanto che venti tempestosi qua c'è un bel vento bellissimo molto bello che bella bientina mi piace il tuo peso lo sfondo o meno crack crack beh insomma non è stata male dai bella, bella gita veloce però bella poi nel bus così tutto vergine spettacolo